Guardi, se una buona parte del popolo italiano non fosse vittima di una situazione particolare, di una ipnosi collettiva che sta impedendo a tante persone di ragionare e di guardare i fatti di quello che succede in giro per il mondo in Europa, io sono deputato italiano al Parlamento europeo e vediamo che tutti i governi, oramai di tutte le nazioni europee, stanno dando dei messaggi che sono molto chiari, dicono che noi dobbiamo imparare a convivere con questo virus, la Spagna dice chiaramente che dobbiamo trattare questo virus come un'influenza e di conseguenza dobbiamo imparare a convivere, certo curare coloro che si ammalano, ma la cosa più importante non è quella semplicemente di avere delle precauzioni di natura igienica e sanitaria, bisogna tenere in considerazione anche che non tenendo in considerazione le esigenze dell'economia stiamo creando dei danni gravissimi all'economia con un'emergenza che oltre ad essere di natura economica è un'emergenza di natura occupazionale e sociale, questo non viene tenuto in considerazione dal governo italiano che in controtendenza rispetto a quello che fa l'Inghilterra, la Francia, la Danimarca, la Germania, la Spagna, in controtendenza invece continua ad andare a incancranirsi sugli obblighi, sulle restrizioni, sui divieti e questo veramente in controtendenza con quello che sta facendo tutta l'Europa. Io dico sempre, guardate che c'è chi pensa che questo accanimento che il governo di presunta Solvista Nazionale sta imponendo ai cittadini italiani non è legato, comunque qualcuno pensa, alla volontà di punire i Novax, no no c'è un disegno molto chiaro che è quello di portare l'economia italiana in ginocchio per poi svendere l'Italia ai mandanti di questo governo, questo è quello che succede, dico delle parole che sono molto gravi ma le dico perché so di poterle dire, allora la questione sta in questi termini, quindi guardate che avete visto che adesso hanno lanciato il messaggio delle serie, faremo il Green Pass, lo faremo con durata illimitata per coloro che fanno il booster, la terza dose. Poi vi racconterò l'ennesimo episodio che mi è accaduto con una carissima amica proprio l'altra sera, lei e il marito entrambi vaccinati con terza dose, malati, sono ammalati e il marito ha accorso il rischio di finire in ospedale perché era stato abbandonato dal sistema sanitario in vigili attesa e solamente prescrivendo per telefono la tachipirina. L'abbiamo salvato interpellando un medico che nel rispetto del suo dovere professionale ha prescritto dei farmaci che hanno portato questa persona fuori da una situazione molto molto pericolosa. Di seguo la questione sta in questi termini, dicono adesso vi premiamo tutti quelli che hanno fatto la terza dose e vi diamo un Green Pass a scadenza illimitata. Qualcuno dice ci premiano perché noi che abbiamo aderito alla campagna vaccinale o a ricatto vaccinale adesso ci danno un Green Pass a scadenza illimitata e guardate che vi danno un Green Pass per sempre cioè vogliono fare in modo che anche quando è passata l'emergenza sanitaria vi vogliono costringere ad avere un passaporto per poter godere in parte delle vostre libertà. Cioè questa è una cosa assurda. Sì perché il fatto stesso che si parli di illimitato c'è da un senso di... Ma molti ritengono che sia un premio. In realtà questi ti dicono che ti daranno un Green Pass sarai costretto ad avere un Green Pass per non so quanto tempo in misura illimitata per sempre e questo non è un premio a chi ha aderito alla campagna vaccinale ma è una punizione perché ti costringeranno per poter godere delle tue libertà individuali o alcune di esse ti costringeranno sempre a dover esibire un passaporto adesso di natura motivato dall'emergenza sanitaria ma poi magari motivato dall'emergenza di natura economica oppure ambientale così come avviene in Cina. Poi parleremo di quello che succede già in Cina. No, no, sì.